Gli aiutanti della regina potrebbero pubblicare un video o delle immagini per rassicurare il pubblico sulla sua salute dopo aver confermato che è risultata positiva al Covid, ha suggerito un commentatore reale, si dice che la regina soffra di sintomi lievi e continuerà a svolgere compiti leggeri al castello di Windsor. Sua maestà è il terzo membro anziano della famiglia reale a risultare positivo al Covid questo mese dopo il principe Carlo e Camilla. La duchessa di Cornovaglia. La commentatrice reale Victoria Murphy ha suggerito che la regina non dovrà affrontare niente di troppo intenso per il momento e ha suggerito che gli assistenti reali potrebbero cercare di rassicurare il pubblico britannico su di lei con un video o una serie di immagini di sua maestà nell'adempimento dei suoi doveri, parlando alla BBC Breakfast, la signora Murphy ha dichiarato. Si sono davvero mossi con questa affermazione per mitigare le speculazioni, contro le preoccupazioni inutili per la salute della regina. Risponde a tutte quelle domande chiave che vorremmo sapere. Quali sono i suoi sintomi? Dicono lievi e simili al raffreddore. Quando è risultata positiva? Dicono ieri mattina, sottolineando anche attivamente che lei intende continuare con compiti leggeri al castello di Windsor. Sottolineando davvero il punto che sta abbastanza bene da essere in giro. La gente spera che potenzialmente possiamo vedere alcune prove di questa settimana, forse una fotografia, forse un video in modo da poter vedere di persona come sta. Ha continuato, The Palace sta dicendo che sta ricevendo cure mediche ma non sono precisi su cosa significhi, sappiamo che è al castello di Windsor, non è in un ambiente medico. Quindi non suggerisce nulla di troppo intenso. È stata monitorata dal personale medico e sono sicuro che verrà presa ogni precauzione se lo riterranno necessario. Ma per ora sembra proprio il caso di lasciarla andare avanti il più normale possibile. La regina è stata fotografata solo la scorsa settimana durante l'incontro con il contrammiraglio uscente del segretario ai servizi di difesa James McLeod e il suo successore, il maggiore generale e il don miller.